State bene? Alla presenza del Signore si sta sempre bene. Buona Pasqua a tutti. Alleluia. Io so che qualche spirito religioso in questo momento si turba, freme, ma io vi ripeto, buona Pasqua a tutti. Anche io, sapete, fino a una decina di anni fa mi turbavo, mi irrigidivo. Perché la religione mi aveva insegnato qualcosa e mi aveva detto, per noi oggi non è Pasqua, perché tutti i giorni è Pasqua. Ma io mi chiedo, ma se tutti i giorni è Pasqua, perché oggi non dovrebbe esserlo? Alleluia. Così come se tutti i giorni è Natale, perché non dovrebbe essere il 25 dicembre Natale. Allora noi oggi, consapevolmente, noi popolo di Dio, noi che comprendiamo cos'è la Pasqua, possiamo dire buona Pasqua. Come l'Apostolo Paolo posso dire lo facevo per ignoranza. Mi era stato insegnato in un determinato modo e io me ne andavo in quel modo. Però vi posso dire che mi sentivo quasi come un disco rotto. Ogni volta che qualcuno nel mio ambiente di lavoro, fra i miei colleghi, eccetera, eccetera, mi diceva buona Pasqua, ecco che partiva automaticamente il disco. No, per noi non è oggi Pasqua, per noi è tutti i giorni Pasqua. Alleluia. E così facendo noi lasciavamo che magari festeggiassero, dicessero buona Pasqua, quelli che, per cui la Pasqua è semplicemente forse una gita, una scampagnata, però adesso non è possibile andare in giro. Ma per molti, purtroppo, dico purtroppo, per molti Pasqua si racchiude semplicemente in una gita fuori porta. O forse in una bella mangiata. O forse in un uovo di Pasqua. O forse in una colomba pasquale. Ma per noi è molto di più. Per noi è il giorno che il Signore ha dato la sua vita. È morto in croce per i nostri peccati. È morto per riscattare la mia e la tua vita. È quella di tutta l'umanità e oggi è assiso sul trono, come abbiamo cantato, è regna ed è ricoperto di gloria e maestà. Alleluia. Giovanni Battista, quando lo vide arrivare, disse ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Alleluia. Non che toglie il peccato dal popolo di Israele, perché sappiamo che storicamente la Pasqua fu Dio stesso a istituirla. Se leggete in Esodo capitolo 12, anche nei capitoli seguenti, ma anche in altri libri, in Levitico, in Deuteronomio, sapete che la Pasqua è stata istituita da Dio per ricordare ciò che il Signore aveva fatto al popolo di Israele. Ma oggi noi possiamo dire ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato da tutto il mondo, perché tutti noi facciamo parte del grande popolo di Dio, ovvero tutti coloro che si sono messi sotto quel sangue e hanno fatto in modo, hanno permesso che il sangue di Cristo li potesse lavare, purificare e perdonare da ogni peccato. Dio stesso istituì la Pasqua. Era la ricorrenza, sappiamo la storia, era la ricorrenza, il ricordo dell'ultima notte, quando il popolo di Israele, Pasqua infatti significa passaggio, è un passaggio dalla schiavitù alla libertà. E noi sappiamo che quella Pasqua era semplicemente un'ombra e una raffigurazione di quello che oggi è la Pasqua per ciascuno di noi. Ciò che allora era ombra e figura adesso è diventata realtà nella nostra vita. Loro festeggiavano il passaggio dalla schiavitù in Egitto alla terra promessa. Il Signore in maniera miracolosa li aveva liberati da una schiavitù di 430 anni e li aveva messi in libertà. Adesso c'era davanti a loro non più schiavitù, ma c'era liberazione. Cosa c'è davanti a noi? Non più schiavitù del peccato. Ricordiamoci che Gesù disse che chi commette il peccato è schiavo del peccato, ma noi siamo stati messi in libertà perché siamo stati perdonati, lavati, purificati, santificati dal sangue di Cristo. E questa festa doveva essere esattamente ogni anno. C'era la ricorrenza di questa festa. Il popolo di Israele Dio aveva ordinato di fare fedelmente quello che avevano fatto quella notte. Ricordate quella notte durante l'ultima piaga i primogeniti di tutti gli egiziani morirono e Dio comandò e disse ma voi chiudetemi nelle vostre case e uccidete un agnello e il sangue dell'agnello sia messo negli stipidi delle porte e nelle architravi affinché l'angelo distruttore quando passerà vedrà questo sangue e voi sarete risparmiati. Fratelli interessante è sapere che se un israelita era fuori dalla casa ed era un primogenito sarebbe morto. E' interessante era sapere che se un egiziano si sarebbe trovato dentro la casa coperta dal sangue dell'agnello, primogenito, la sua vita sarebbe stata risparmiata. Questo sapete cosa significa? Che la salvezza è soltanto e unicamente attraverso il sangue di Cristo. Non ci sono altri modi per raggiungere la salvezza ma il suo sangue è ancora potente. Spiritualmente parlando i nostri cuori ancora sono lavati e intrisi col sangue dell'agnello, l'agnello di Dio che ha tolto il peccato dal mondo. E il popolo di Israele faceva questo e lo per molte migliaia di anni, migliaia di anni, sempre a ripetere la stessa tradizione. Però purtroppo ciò che era ombra e figura rimase per loro ombra e figura perché non sapevano che profeticamente stavano festeggiando la Pasqua, che sarebbe stata ombra e figura della Pasqua quando Gesù Cristo fu immolato per i nostri peccati. E continuarono e continuarono e continuarono a fare ancora ciò che era ombra e figura. Io vi dico né più e né meno di tanti che purtroppo ancora oggi continuano a rimanere nell'ombra e stanno festeggiando una Pasqua di ipocrisia, una Pasqua che non è in relazione con Dio. Io vi dico, fratelli, che un giudeo che era ribelle, che era incredulo, che era disubbidiente, non era meglio e non è meglio di un egiziano che è incredulo, ribelle e disubbidiente. Ma io vi dico altresì che un cristiano, anche oggi, che dice buona Pasqua e non discerne il corpo di Cristo e il sangue non è meglio di un giudeo o di un egiziano che è incredulo, ribelle e disubbidiente. Il Signore ci insegna a discernere il corpo e il sangue che egli ha rotto e versato per il nostro amore. Gesù stesso festeggiava la Pasqua con i suoi ogni anno, ma nell'ultima cena la parola di Dio in Luca ci dice che Gesù disse ai suoi, io ho grandemente desiderato di festeggiare questa Pasqua con voi, perché sapeva che da quel momento in poi qualcosa sarebbe successa, sapeva che ciò che era ombra e figura, ciò che il popolo di Israele festeggiava da millenni, ecco che in quella notte si sarebbe realizzato attraverso il suo sacrificio unico ed irripetibile. lui sapeva che c'era qualcosa che il padre lo aveva chiamato a fare e in quella notte prese il pane e lo ruppe e lo diede ai suoi discevoli e disse mangiate, questo è il mio corpo che è stato spezzato per ognuno di voi. Io vi dico che nel popolo di Dio ci deve essere discernimento per comprendere quello che ha fatto il Signore per ciascuno di noi, quel corpo spezzato per amore, quel corpo spezzato per passione per le anime, quel corpo spezzato per te e per me e poi parimenti dice la parola di Dio, prese il calice e versò il vino e lo diede ai suoi e disse prendete, questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto, bevetelo perché questo sangue è stato versato per ciascuno di voi, non per l'umanità fratello, non per l'umanità sorella ma per te personalmente e il Signore ci chiede stamattina ancora una volta di discernere il suo corpo e il suo sangue perché questo significa poter festeggiare la Pasqua, solo in questo modo fratelli siamo abilitati a festeggiare la Pasqua, solo in questo modo il nostro cuore entra in piena relazione col cuore di Dio perché la nostra Pasqua, la Pasqua che è stata immolata per noi, Gesù Cristo ha dato la sua vita, non ci ha riscattato con oro o con argento ma con il suo prezioso sangue e questo è il nuovo patto che lui ha istituito, oggi noi siamo liberi, grazie a Dio, di dire buona Pasqua perché siamo noi il popolo di Dio, siamo noi che abbiamo capito il significato della vera Pasqua, siamo noi che abbiamo capito quel gesto di amore per cui tu ed io adesso abbiamo vita e vita eterna, questo nuovo patto è un patto che sostituisce in questo senso il vecchio patto, non c'è più un'ombra, non c'è più una figura ma c'è il sangue dell'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo, alleluia e noi preghiamo per tutti coloro che forse anche oggi dicono buona Pasqua senza discernere neanche una delle parole che dicono, senza capire il vero significato, rimanendo insensibili al gesto, al sacrificio di amore del nostro Signore. Isaia al capitolo 53 dice ma chi ha creduto alla nostra praticazione? Chi ha creduto? Com'è difficile a volte compenetrarsi in questo sacrificio? Siamo così presi dalla vita quotidiana, dai problemi di ogni giorno, dal nostro lavoro, dalla nostra famiglia che è difficile per noi concentrarci e capire, ricordare quello che il Signore ha fatto per ciascuno di noi, allora sì che anche noi diventiamo ipocriti, allora sì che se anche noi stiamo aspettando la domenica di Pasqua per dire buona Pasqua, allora anche noi siamo ipocriti perché non c'è nel nostro cuore quel desiderio di relazionarsi col nostro Gesù e di comprendere, di concentrarci, di creare una simbiosi con quel gesto di amore, certo non è una volta l'anno che noi lo ricordiamo, ma sappiamo che il Signore ha dato la sua vita un giorno per noi, una croce è stata insanguinata, un calvario pieno di sofferenze, una tomba piena soltanto per tre giorni e un trono pieno per l'eternità e oggi ognuno di noi è seduto su quel trono. Isaia 53 descrive così bene il martirio del Signore e ogni volta che leggo questo passo di scrittura veramente mi emoziono tanto, però nello stesso tempo questo capitolo comincia così, ma chi crederà alla nostra predicazione? Com'è difficile fratelli, era difficile non soltanto per i dei, ma era difficile anche per gli apostoli che avevano creduto in Gesù, apriamo la parola di Dio nell'Evangelo di Matteo, Matteo al capitolo 16, era difficile non soltanto per gli increduli, ma era difficile capire il sacrificio di Cristo anche per coloro che camminavano quotidianamente con Lui, perché io vi dico che ci vuole una rivelazione dall'alto, o noi predichiamo e facciamo bene, giovedì abbiamo, c'è stato il messaggio che è importante, guai a me diceva l'Apostolo Paolo se non predico, ma io vi dico che non saranno le nostre parole, ma sarà l'unzione dello Spirito Santo attraverso le nostre parole a compungere i cuori. Isaia diceva chi avrà creduto alla nostra predicazione? Soltanto, la risposta è soltanto coloro che ricevono una rivelazione che viene dall'alto, una rivelazione da parte di Dio, solo così i nostri cuori possono essere compunti ed essere penetrati dalla verità della sua parola. Al capitolo 16 dell'Evangelo di Matteo al verso 21, dice così, da quel momento Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che era necessario per lui andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Allora Pietro lo prese in disparte e cominciò a riprenderlo dicendo, Signore Dio te ne liberi, questo non ti avverrà mai, ma egli voltatosi disse a Pietro, vattene via da me Satana, tu mi sei di scandalo, perché non hai il senso delle cose di Dio ma delle cose degli uomini. Questo passo di scrittura ci spiega in maniera molto chiara che Gesù a poco a poco incominciò a spiegare anche ai suoi discepoli, un argomento molto difficile da accettare, perché le aspettative di quel tempo facevano in modo che colui che doveva venire, il Messia, non fosse semplicemente un uomo che sarebbe morto in croce come un ladro qualsiasi, ma sarebbe stato un Messia pieno di gloria, pieno di riconoscenza, pieno di maestà. Lo immaginavano attraverso la propria conoscenza, però una conoscenza carnale, lo immaginavano come uno dei re di questo mondo. Ma noi ricordiamo le parole di Gesù, io non sono venuto per essere re in questo mondo, ma il mio regno è un regno celestiale, il mio regno è un regno eterno. Gesù non era venuto per regnare sempre qui, ma era venuto con una missione importante, era importante ciò che fece durante i suoi tre anni di ministerio, sicuramente fece delle opere meravigliose, fece molti miracoli, i ciechi riacquistavano la vista, gli zoppi camminavano, i sordi ascoltavano, i lebrosi venivano mondati, gli spiriti maligni uscivano dalle persone e anche i morti risuscitavano. Però la missione, il primo obiettivo che Gesù ebbe quando venne su questa terra era quella di dare la sua vita per la nostra, per salvare la nostra vita. Era quella che un giorno lui sapeva esattamente cosa gli sarebbe successo, ecco perché la scrittura dice che quello che egli fece lo fece spontaneamente. Dice la parola di Dio che Gesù disse nessuno prende la mia vita, io la depongo spontaneamente, ecco perché il padre mio mi ama, perché io ho potestà, ho libertà di dare la mia vita e di prenderla un'altra volta ed è quello che lui fece. E qui però Gesù incominciò ad annunciare ai suoi discepoli ciò che da lì a poco gli sarebbe occorso. Però vedete che la scrittura parla di morte e risurrezione, ovvero Gesù nell'annunciare la sua morte non disse che sarebbe morto e sarebbe rimasto in una tomba, ma sarebbe morto e sarebbe risorto. Ma malgrado questo era difficile, era difficile per i discepoli, era difficile per Pietro, il più audace che prende parola, era difficile perché il loro cuore era messo in sofferenza, le loro speranze, le loro attese stavano subendo un duro colpo, un po' come i due discepoli di Emmaus, quando camminavano insieme erano turbati da quello che era successo. Ma Gesù accostatosi a loro disse, oh insensati e lenti di cuore a credere ciò che i profeti hanno detto. Non doveva il Cristo morire e risuscitare il terzo giorno e sedere alla terrestre di Dio per intercedere per ciascuno di voi. E dice la scrittura che poi a poco a poco incominciarono a capire una rivelazione fu loro a loro disposizione messa direttamente da Gesù e il loro cuore cominciò, dice la parola di Dio, non ardiva il nostro cuore quando egli ci parlava. Fratelli non arde il nostro cuore quando leggiamo questi passi di scrittura e comprendiamo questo gesto ineffabile di amore. Ma Pietro ancora non aveva quella maturità spirituale per comprendere quello che il Signore gli stava dicendo. Allora disse, no, questo non ti accadrà mai. Eppure era lo stesso Pietro che qualche minuto prima quando Gesù disse, chi dite voi che io sono? Con un cuore sensibile alla voce dello Spirito aveva detto, tu sei il Cristo, il figlio di Dio. Ricordiamo la risposta di Gesù, né sangue e né carne ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Perché ci vuole sempre una rivelazione per capire chi è Gesù. Ma ci vuole altresì sempre una rivelazione per comprendere il suo sacrificio. Non è dire Buona Pasqua che ti fa comprendere il suo sacrificio, ma è quella relazione di amore, di affetto che tu instauri col tuo Signore e col tuo Salvatore. E quando leggi queste parole comprendi che quello che è stato fatto circa duemila anni fa ha una potenza, il suo sangue ha una potenza ancora oggi da lavare, da perdonare, da purificare, da santificare tutti coloro che lo desiderano. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo, che toglie il peccato da tutti coloro che hanno voglia, che hanno il desiderio, che hanno quella grinta, quella tenacia, quella caparbietà di dire Signore io mi voglio impossessare di quel sangue che è stato versato. La parola di Dio, fratelli, non è per i tiepidi, non è per quelli che rimangono ai margini, non è per quelli che dicono Signore io ti seguirò però ti voglio seguire da lontano. Non sei freddo, non sei come coloro che sono increduli, non sei come coloro che hanno deciso io non credo e non voglio credere, questi sono i freddi, ma non sei neanche fra i zelanti, non sei neanche fra quelli che hanno passione, non sei neanche fra quelli che hanno il cuore molto caldo e che apprezzano tutti i giorni quello che il Signore ha fatto per ciascuno di noi. Ma non voglio ripetervi qual è il destino dei tiepidi, ma io prego che qui in questo luogo ci siano persone ferventi, alleluia, persone incendiate di amore per il nostro Signore. Pietro disse questo non ti avverrà mai e lo disse anche in buona fede, noi sappiamo che non c'era malizia nelle parole di Pietro, però Gesù lo rimprovera e lo rimprovera in una maniera molto categorica. Sì è vero tu poco fa hai avuto una rivelazione dall'alto ma ora non è più la rivelazione che viene dall'alto che ti sta facendo dire le parole che tu stai dicendo, ma è la tua carnalità perché tu stai riguardando alla mia morte esattamente come alla morte di un uomo qualunque, forse è un uomo per bene, forse è un uomo che sta subendo un'ingiustizia, forse è un uomo che è stato condannato da giudici corrotti, ma io vi dico fratelli che tutto questo era nella storia prima che il mondo fosse, perché il nostro Gesù ha dato la sua vita per noi e lo ha fatto prima che il mondo fosse, semplicemente duemila anni fa è stato evidente, è stato visibile e allora rimprovera Pietro e gli dice tu mi sei di scandalo, vai via da me Satana perché quelle parole non erano suggerite come le altre dal padre mio che è nei cieli ma erano suggerite dall'avversario della nostra vita, da colui che voleva in tutti i modi evitare che questo accadesse perché sapeva che attraverso quel sacrificio molte anime sarebbero venute a ravvedimento perché sapeva che oggi qui io e te parlando di quel sacrificio abbiamo ancora il cuore intriso di amore e incendiato d'amore per lui e come due discepoli sulla via di Emmaus il nostro cuore ancora oggi arde di amore, arde di gioia a sapere che il nostro Gesù, il nostro Cristo è seduto sul trono e intercede per me e per te, quale meravigliosa opportunità ancora oggi quella di dire buona Pasqua quale meravigliosa opportunità impossessarsi della morte e della resurrezione di Cristo ma Pietro ancora non lo aveva capito, pensava che non ci potesse essere gloria per un uomo che è lì che sta per spirare su una croce e invece Gesù ci insegna che la gloria viene sempre dopo la sofferenza non ci può essere gloria senza sofferenza, non ci può essere resurrezione senza morte come fai a risorgere se non muori? oggi parliamo di un altro tipo di morte diciamo Signore fai in modo che il mio ego, il mio io possa morire affinché io possa risorgere a nuova vita ecco cos'è fratelli la Pasqua, è il passaggio dalla vecchia vita alla nuova vita e Gesù lo rimproverò e disse tu mi sei di scandalo perché queste parole ti sono suggerite dall'avversario della tua vita ma io ti dico che c'è molto di più, io ti dico che se tu apri il cuore tu vedrai la mia gloria e la sua gloria era lì su una croce una croce come mezzo non come fine perché Gesù non rimase lì una croce come attraverso la quale il nostro Signore morì ma una tomba vuota attraverso la quale il nostro Signore vive era necessario dice la parola di Dio cominciò a dire ai suoi che era necessario ma perché era necessario? però non perdete questo segno che ci torneremo perché era necessario? andiamo in Giovanni al capitolo 12 abbiamo capito che la morte di Gesù era necessaria adesso capiremo perché la morte di Gesù era necessaria Giovanni capitolo 12 al verso 20 dice oltre a quelli che erano saliti ad adorare durante la festa c'erano alcuni greci notate che non erano giudei erano greci facevano parte del popolo dei gentili Gesù incominciava a vedere la sua opera i cui effetti non erano più soltanto per il popolo di Israele non era più una Pasqua immolata soltanto per il popolo di Israele per festeggiare la loro fuoriuscita dall'Egitto la loro liberazione politica sociale ma adesso c'era una nuova Pasqua c'erano anche i gentili e quindi Gesù vedeva già attraverso il suo sacrificio che il suo sacrificio stava per essere esteso al mondo intero Filippo doveva dirlo ad Andrea e loro a loro volta Andrea e Filippo lo dissero a Gesù ma Gesù rispose loro dicendo l'ora è venuta in cui il figlio dell'uomo deve essere glorificato e per questo Gesù era venuto in verità in verità vi dico che se il granel di frumento caduto in terra non muore rimane solo ma se muore produce molto frutto chi ama la sua vita la perderà e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna se uno mi serve mi segua e là dove sono io là sarà anche il mio servo e se uno mi serve il padre l'onorerà alleluia ecco perché non soltanto il sacrificio di Cristo era necessario ma ecco la spiegazione perché era necessario e Gesù lo spiega attraverso un esempio tratto dal mondo naturale e spiega che così come nel mondo naturale il seme, il seme delle piante seppur ha in se stesso la vita dentro il seme c'è la vita ma questa vita non si può sprigionare se questo seme non viene interrato e muore c'è una spiegazione spirituale in tutto questo che è il sacrificio di Cristo sarebbe stato inutile se Gesù fosse venuto anche a fare tutte le cose meravigliose, magnifiche che aveva fatto tutti i miracoli che aveva compiuto ma se poi questo seme, la sua vita non fosse stata messa a dura prova attraverso la morte non avrebbe sprigionato la sostanza vitale che c'è in ciascuno di noi ecco perché il sacrificio di Cristo era non soltanto necessario ma unico nella storia perché quegli agnelli che ogni anno venivano ammazzati e c'era un modo di fare che doveva essere sempre lo stesso l'agnello ucciso, arrostito i pani azimi perché ricordassero la fretta i pani della fretta di quella notte prima che il popolo di Israele uscisse dalla terra di Egitto le erbe amare per ricordare la sofferenza dei 430 anni di schiavitù e questo era tutto ciò che si faceva ogni anno ma adesso c'è una spiegazione sul perché Gesù doveva dare la sua vita perché attraverso la sua vita attraverso la sua morte io e te potessimo avere la vita e questa vita si moltiplicava e si è moltiplicata in tutte le generazioni disse Pietro ora comprendo che il Signore non usa particolarità ma in ogni nazione chiunque apre il cuore a Lui e lo serve e lo segue e lo ama e lo adora a vita eterna ora comprendo che non c'è più una particolarità di persone non c'è più un popolo di Israele e non c'è più un popolo dei gentili ma chiunque apre il cuore e crede a questo sacrificio ineffabile sarà come il servo col padrone e il Signore ci insegna e ci dice e non pensare che se io ho fatto in questo modo per te la realtà sarà diversa cioè qui il Signore ci sta insegnando che non ci può essere gloria se non attraverso la sofferenza e questo non vale soltanto per Lui ma vale anche per noi perché il servo non è più del suo padrone non ci può essere una resurrezione non ci può essere vita se non attraverso la morte ma io ti chiedo vuoi vivere tu o vuoi morire io voglio morire per poi vivere io voglio che la mia vita sia una vita consacrata a Lui e lo può essere soltanto in un modo se noi apriamo il nostro cuore e crediamo in quel sacrificio e esattamente come Lui andiamo attraverso gli stessi sentieri ma forse la vita dei discepoli era turbata a sentire queste parole Signore disse Pietro io non voglio che questo ti accada ma Gesù mostrando il suo amore in tutto quello che Lui diceva in tutto quello che Lui faceva dice il vostro cuore non sia turbato quanti fratelli oggi hanno il cuore turbato perché forse sono fermi alla morte del nostro Gesù ma non hanno non sono transitati non c'è stata una transizione dalla morte alla vita ricordiamoci che Gesù non è più in una tomba ma egli è risorto però noi possiamo rimanere ancora in una tomba se non crediamo potremmo ancora rimanere anche noi nell'ombra di una Pasqua che era soltanto ombra e figura raffigurazione di quella che è la vera Pasqua se semplicemente noi rimaniamo tiepidi alle sue parola se semplicemente noi rimaniamo indifferenti se non ci compenetriamo nella vita nel sangue di Gesù se non discerniamo ogni giorno il suo corpo e il suo sangue anche noi come coloro che ancora sono fermi all'ombra di sacrifici che non hanno più niente a che vedere con l'unico sacrificio e l'ultimo sacrificio che è stato dato anche noi stiamo vivendo nell'ombra anche noi stiamo vivendo attraverso raffigurazione ma non abbiamo capito qual è la realtà delle cose Gesù disse io attirerò tutti a me quando sarò innalzato come Mosè innalzò il serpente nel deserto e chiunque guardava il serpente anche se i serpenti lo avevano morso aveva la vita altrettanto noi fratelli quando riusciamo spiritualmente parlando a guardare quel sacrificio ad alzare ed elevare la nostra vista spirituale a comprendere che su quella croce il Signore ha dato la sua vita per ciascuno di noi anche noi qualsiasi sia il problema qualsiasi sia il morso del serpente del 2021 tu avrai vita eterna noi abbiamo vita eterna e questo fratelli ci dovrebbe fare saltare dalla sedia a prescindere dai problemi che ci sono nella società moderna a prescindere da tutto quello che sta accadendo noi fratelli ricordiamoci che pur essendo nel mondo però non siamo del mondo noi dovremmo essere in un'isola felice dove il nostro Signore il nostro Salvatore è assiso sul trono ed è lì a disposizione disponibile per chiunque anche oggi lo va a ricercare ma la mia domanda è chi ha creduto alla nostra predicazione chi sono quelle persone che mettono tutto in secondo piano davanti all'eccellenza di Dio chi sono quelle persone che hanno deciso di festeggiare la Pasqua tutto l'anno chi sono quelle persone che non dicono buona Pasqua semplicemente come un augurio fino a se stesso vuoto di significato e senza nessun senso chi sono quelle persone che quando dicono buona Pasqua stanno dicendo veramente che il sangue di Cristo ti continui a lavare giorno dopo giorno non pensare fratello non pensare sorella che non hai più bisogno del sangue di Cristo tutti noi abbiamo bisogno del sangue di Cristo ogni giorno tutti noi abbiamo bisogno di quel sangue che purifica la nostra vita che lava la nostra vita che perdona la nostra vita tutti noi abbiamo bisogno ogni giorno di meditare su quello che il Signore ha fatto per ciascuno di noi non fare come questi uomini che ha nello stesso capitolo al verso 42 dice la parola di Dio tuttavia anche tra i capi molti credettero in lui ma a motivo dei farisei non lo confessavano per non essere espulsi dalla sinagoga perché amavano la gloria degli uomini più della gloria di Dio ancora oggi fratelli ci sono queste persone forse ce ne può essere anche qualcuno qui ma io prego affinché il Signore tocchi il tuo cuore per non fare come questi uomini che avevano ascoltato la verità avevano aperto il cuore alla verità ma la loro carnalità superava la loro spiritualità avevano deciso che non erano interessati alla gloria di Dio ma erano interessati alla gloria degli uomini io ti dico per certo che rimarrai infelice se farai così perché la verità che tu hai compreso è talmente evidente nella tua vita che non godrai dei benefici anzi dei malefici della tua carnalità perché il Signore ha già parlato al tuo cuore in maniera evidente in maniera chiara e tu conosci la verità ma se la verità che c'è nel tuo cuore non supera il tuo desiderio di appartenere a questo mondo di appartenere alle cose effimere che finiranno col tempo in una parola se tu non ti sei appartato con colui che ha dato la sua vita per la tua e per la mia non godrai delle benedizioni della Pasqua di questo Cristo che è stato immolato la mia preghiera è che se c'è qualcuno in mezzo a noi che forse si identifica con questi uomini che avevano amato più la gloria degli uomini piuttosto che la gloria di Dio se c'è qualcuno in mezzo a noi che sta vivendo per le cose effimere di questa vita ma non sta vivendo per quel sangue di Cristo che è stato versato io prego che tu possa tornare indietro sui tuoi passi che tu possa ritornare al tuo primo amore perché ti dico che non c'è cosa migliore non c'è cosa più preziosa di quella di dare la tua vita per lui perché se tu darai la tua vita per lui per certo tu la guadagnerai torniamo e sto per concludere al passo di prima abbiamo detto che il popolo di Israele festeggiava la Pasqua e lo faceva attraverso un agnello arrostito attraverso pani azimi pani non lievitati cosa significa oggi abbiamo anche detto che quello che facevano era ombra figura di quello che invece adesso conta per noi di quello che vale per noi della verità che noi oggi abbiamo abbracciato pani azimi pani senza lievito dice continuando a leggere sempre Matteo 16 al verso 24 dice allora Gesù disse ai suoi discepoli se qualcuno vuole venire dietro a me rinneghi se stesso prenda la sua croce e mi segua perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà ma chi avrà perduto la propria vita per amore mio la ritroverà che giova infatti all'uomo se guadagna tutto il mondo e poi perde la propria anima o che darà all'uomo in cambio dell'anima sua alleluia qui il signore dice è evidente che quello che ho fatto io quello che sto per fare io quello di dare la mia vita per voi è evidente che quel gesto deve essere emulato da ciascuno di voi grazie a dio noi non abbiamo la necessità di essere crocifissi come fu crocifisso lui ma io vi dico fratelli in verità che il signore si aspetta che anche noi diamo la nostra vita per lui e lo possiamo fare in un semplice modo quello di rinunciare alle mondane concupiscenze davanti all'eccellenza di dio perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà chi non ha compreso questi concetti è inutile che dici buona pasqua non hai capito non sei in una relazione con il tuo cristo non hai capito il gesto del suo amore non hai capito il suo sacrificio ma se tu invece decidi come la parola di dio ti suggerisce per il tuo bene per il nostro bene chi vorrà salvare la sua vita la perderà e allora io mi chiedo ma se tu vuoi salvare la tua vita cerca di non perderla ma chi perderà la sua vita per amore mio la guadagnerà quindi se tu vuoi salvare la tua vita è necessario che tu la perda alleluia signore perché il cristianesimo ha capovolto tutti i principi di questo mondo ma com'è possibile ma com'è possibile capire il significato di perdere la propria vita per guadagnarla e se invece non la perdi la per se invece invece di di perderla il signore ti dice tu invece di seguire me continua a fare quello che hai sempre fatto prima di conoscermi io ti dico che tu in questo modo la tua vita la perderai com'è possibile capire queste cose solamente attraverso una rivelazione che viene dall'alto Pietro fu abilitato un'altra volta da Gesù quando il signore gli disse Pietro mi ami tu Pietro mi ami tu Pietro fu riabilitato a festeggiare la Pasqua fratelli che noi possiamo essere abilitati stamattina a festeggiare la Pasqua e la vogliamo fare in una maniera differente da come la fece nel popolo di Israele non ci interessa più quel tipo di pane azimo ma oggi c'è un altro tipo di pane azimo a cui noi dobbiamo anelare è un pane che è completamente privo di azimi di malizia di azimi di rancore di azimi di mancanza di perdono ecco gli azimi ecco il lievito che il signore stamattina ci sta insegnando a evitare la parola di Dio dice che basta un pizzico di lievito per fare lievitare la pasta tutta la pasta ecco il nuovo pane azimo di oggi fratelli il pane è privo di ogni radice di amarezza e io ti dico fratello io ti dico sorella se tu realmente stamattina vuoi continuare a dire buona Pasqua e lo vuoi fare senza ipocrisia nel tuo cuore io ti dico se hai un problema con qualche fratello con qualche sorella vai a riappacificarti lascia la tua offerta sull'altare dice la parola di Dio lascia la tua offerta sull'altare perché il signore non se ne fa nulla di una offerta che è contaminata da un pane non azimo il signore ci sta insegnando e ci sta dicendo vuoi festeggiare veramente la Pasqua vuoi veramente dire buona Pasqua senza ipocrisia in piena trasparenza in piena sincerità sii in pace con Dio e con gli uomini fai in modo che quel sacrificio che io ho fatto non rimanga nella tua vita fine a se stesso fai in modo di vivere per quel sacrificio fai in modo che quando dici buona Pasqua il tuo cuore si possa riempire di gioia perché realmente comprendi quello che dici solamente se noi abbiamo facciamo pieno discernimento del corpo di Cristo che è stato rotto e spezzato per noi del sangue di Cristo che è stato versato per noi solo in questo caso noi possiamo dire buona Pasqua e lo possiamo dire con tutto il cuore alleluia alziamoci in piedi gloria a Gesù primo corinzi dice al capitolo 5 dice il vostro vanto non è buono e ricordatevi che primo corinzi si trova nel nuovo testamento il vostro vanto non è buono non sapete che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta togliete via dunque il vecchio lievito affinché siate una nuova pasta come ben siete senza lievito la nostra Pasqua diciamo insieme la nostra Pasqua cioè Cristo è stata immolata per noi e poi al verso 8 dice celebriamo sta parlando con noi sta parlando con la Chiesa sta parlando col popolo di Dio dice celebriamo perciò la festa ecco fratelli che siamo abilitati a farlo celebriamo perciò la festa non con vecchio lievito né con lievito di malvagità e di malizia ma con azimi di sincerità e di verità alleluia alziamo le mani gloria a te Signore la nostra Pasqua è stata immolata Gesù Cristo il nostro Re il nostro Salvatore il nostro Signore Signore abbiamo compreso che tu ci hai insegnato stamattina che la nostra Pasqua sei tu Signore tu ci hai insegnato che attraverso una relazione intima che noi possiamo comprendere il tuo sacrificio oh Signore non saranno feste umane non saranno riti usi e costumi a farci comprendere quel gesto di amore ineffabile ma sarà Signore la rivelazione che viene dall'alto la rivelazione Signore dell'unzione del tuo Santo Spirito che ci ha fatto comprendere che attraverso la tua morte e attraverso la tua resurrezione c'è vita per ciascuno di noi ti benediciamo figlio di Dio e ti ringraziamo per quel gesto di amore unico Signore mai nessuno era in grado di farlo e mai nessuno sarà in grado di farlo nella storia grazie Signore per ogni cosa benedici la tua chiesa la tua sposa dona a ciascuno di noi Signore conoscenza e intendimento spirituale per poter comprendere la tua parola dai Signore a ciascuno di noi pace e la gioia della tua salvezza nel nome di Gesù amè amè andate in pace Dio vi benedica grazie a tutti